L'invito allora è di costruire comunione tra voi, ma anche comunione tra associazioni e organizzazioni che nel mondo cattolico si occupano di cinema, per trasmettere la bellezza dello stare insieme negli eventi di cui siete promotori. Senza comunione all'aggregazione manca l'anima. Con queste parole le avete appena sentite, sabato scorso Papa Francesco si è rivolto alla grande famiglia che ormai da 70 anni tiene aperte e attive le sale della comunità del nostro paese. In quelle sale che una volta erano solo il cinema parrocchiale e oggi sono davvero molto molto di più, tutti noi abbiamo visto i nostri primi film, ci siamo emozionati e Gabriella siamo cresciuti con valori saldissimi, io direi. Eh sì Massimiliano, e allora a queste sale e alle comunità che le abitano vogliamo dedicare questo pomeriggio con l'intenzione anche di fare a tutti, agli amministratori, ai parroci, al pubblico, ai volontari tantissimi, tantissimi auguri per questi 70 anni insieme. E allora, tra ricordi delle dopoguerra e sfide del domani, iniziamo questo nostro viaggio grazie agli ospiti che vi presento subito. Bentornato a Don Adriano Bianchi, Presidente dell'Acec, l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema che ci racconterà il valore di queste sale. Grazie per essere con noi questo pomeriggio. Ringraziamento che stendo a Francesco Giraldo, segretario generale dell'Acec che ci guiderà in tutta Italia per conoscere le storie e le emozioni che si vivono nelle sale della comunità. Ben arrivato siamo noi. Benvenuta. E ben arrivata Lisa Marafini, volontaria della parrocchia, della sala della parrocchia di San Timoteo. Siamo a Roma che da ormai 30 anni si prende cura del cinema per i suoi parrocchiani e per l'intero quartiere, cara Gabriella. Allora, beh, è un bellissimo servizio questo. Benvenuti tutti, io Don Adriano mi rivolgo a lei più che come Presidente dell'Associazione che riunisce le sale della comunità, quelle che noi chiamavamo le sale parrocchiali, un po' impropriamente, no? E i cinema parrocchiali, come religioso? Perché avete avuto a Roma, proprio adesso, tre giorni di festeggiamenti per i 70 anni, 400 volontari sono arrivati, l'incontro con Papa Francesco, con cui abbiamo aperto, che vi ha detto delle cose molto belle che voi portate. Con voi è insieme, ha fatto una riflessione che io vorrei sottolineare, ha detto senza comunione all'aggregazione manca l'anima. Ora, questo suona come un monito, come un invito, ma anche come un riconoscimento del vostro lavoro. Sì, nel senso che indubbiamente noi siamo preoccupati, credo, dobbiamo leggere il nostro servizio, che è un servizio davvero che prende a cura lo spirito e l'interiorità delle persone, di tutte le persone, di quelle che si riconoscono, come dire, dentro il cammino della comunità cristiana e hanno un'esperienza male di fede, ma anche di quelle che, proprio perché vengono e incrociano i nostri percorsi per l'amore al cinema, per l'amore al teatro, per l'amore ai prodotti culturali e alla bellezza dell'arte. E cerchiamo di fare questo, di nutrire il loro spirito e la loro anima, aiutandoli attraverso i linguaggi dell'arte e della bellezza, ad esempio ad aprire, a porre delle domande, a porre delle questioni che interpellano il loro sguardo, il loro modo di vedere le cose e in questo senso indubbiamente possono aprirsi anche un percorso. Questo per noi è fare comunità e anche lavorare per la comunione. Un'aggregazione quindi nelle sale non fino a se stessa, ma che punta veramente allo spirito e all'anima delle persone. Ogni persona nella sala della comunità è preziosa e ogni persona nella sala della comunità può portare a casa qualcosa. Oggi come ieri, perché sono ormai 70 anni, Giraldo, che questi valori aggregano le persone e danno un'anima alla vita di queste persone. Ma come è iniziata 70 anni fa questa avventura? È iniziata all'interno dell'azione cattolica, il 1949, il 18 maggio. Quattro parroci romani si sono messi assieme e hanno costituito l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema. Da loro il cammino è stato molto veloce. Negli anni, alla fine degli anni 50, Monsignor Pignatiello, un sacerdote di Napoli, mise accanto alle sale parrocchiali questa nuova definizione sala della comunità perché capì che la sala parrocchiale era un termine che andava stretto perché era la sala della comunità, non solo della comunità ecclesiale, ma della comunità presente su tutto il territorio dove la sala stava, insomma, dove la sala era stata costruita. E noi da oggi pomeriggio vogliamo usarlo con più consapevolezza, vogliamo usarla questa espressione perché, diciamo la verità, un po' nel linguaggio comune continuiamo a parlare di sale parrocchiali, di cinema parrocchiali. Lei diceva che il dopoguerra, agli anni 50-60, quando c'erano 12.000 cinema, 6.000 erano pensate sale della comunità. Oggi quante sono queste sale in Italia e come sono distribuite, lavorano in continuità o magari a giorni alterni? Ci dia un po' un'idea. Sono 800 le sale della comunità presenti su tutto il territorio nazionale, da Livigno a Tettelleria, cioè la punta più estrema del nord e la punta più estrema del sud. 65% di queste sale sono in comuni con meno di 10.000 abitanti, dunque vi fa capire la funzione sociale e culturale di queste sale. Nelle grandi città sono nelle periferie, nei piccoli centri sono al centro perché la parrocchia è al centro del paese. Alcune lavorano nei fine settimana, alcune magari tutta la settimana. Di queste 650 sale che sono tutte digitalizzate, c'è una buona parte, fa l'attività di un fine settimana lungo dal giovedì alla domenica, moltissime fanno un'attività sette giorni su sette, ci sono moltissimi volontari che prestano il loro servizio, un tipo di attività del genere non potrebbe essere attiva se non con l'aiuto delle persone che nella parrocchia invece di fare l'attività e il servizio in carita sulla catechesi fanno il servizio all'interno della sala della comunità che è un vero servizio pastorale che la sala dà. È stato chiarissimo. Io sono curioso di sapere della signora Marafini che cos'è la sala della comunità nella sua vita. Ci dica un po'. Beh, diciamo che io ho cominciato con gli amici in una condizione appunto parrocchiale, abbiamo avuto degli adulti che ci hanno sostenuto nella realizzazione, non era così questa sala come è adesso. Poi ce la racconterà come l'avete trasformata negli anni e adesso ci racconti della sua vita. E però ecco, è diventata la mia vita perché sono 32 anni che sono... 32? Non c'è servizio in questa cosa, sì. Lei li ha parlato genericamente di amici, però io so che c'entra un amore di gioventù. Sì, era il mio fidanzato di allora, poi abbiamo continuato ad essere amici e ci occupiamo tutt'oggi della programmazione, della gestione della sala. Bellissimo, e si intuisce in quel sorriso l'entusiasmo con cui Lisa Marafini continua a svolgere questo servizio oggi. Io sono sicura, Massimiliano, che lo stesso entusiasmo, la stessa passione si vive anche nel quartiere di Santo Spirito, Bari, dove si trova la nostra Marta Mandro. Eccola, Mandro. In una situazione un po', diciamo, di cantiere. Marta, dove sei? Sì, esatto. Ciao Gabriella, ciao Massimiliano. Sono al quartiere Santo Spirito, sono all'interno della sala della comunità del quartiere Santo Spirito qui a Bari e sono in mezzo agli ultimi lavori di ristrutturazione della sala. Una sala che è stata fortemente voluta negli anni e che dovrebbe in teoria riaprire tra pochissimo con l'inizio del prossimo anno. Con me qui c'è Paola Sblendorio, che è una delle volontarie che lavora all'interno di questa sala e si occupa in particolare della parte culturale. Quando è nato questo progetto della sala della comunità? Questo progetto è nato nel 1999 da un intuito dell'allora parroco della nostra parrocchia, Don Peppino Cutrone. Entrando in un salone, il salone parrocchiale, che adesso è la nostra sala, ha avuto questo intuito proprio di trasformare una sala dismessa, una sala poco funzionale, in una sala competitiva, in un cinema, in una sala cinematografica. Ha raccontato a noi questa sua idea, a noi ragazzi di vent'anni fa, e ci ha trasferito tutto il suo entusiasmo, il suo amore per questo progetto ed è nato il Piccolo Cinema. Dal 1999 ha lavorato ininterrottamente con le scuole, ha portato i grandi registi qui a Santo Spirito, Muccino, tanti altri, e soprattutto è un lavoro quotidiano, quello che noi facciamo con le scuole. Nel 2016 abbiamo partecipato ad un bando regionale, abbiamo vinto questo bando regionale per la riqualificazione delle sale e il rilancio di attrattori culturali che è la nostra parrocchia, abbiamo partecipato al bando e l'abbiamo vinto. Adesso siamo addirittura d'arrivo, ringraziamo la regione per il cospicuo finanziamento che ci ha dato perché ha reso possibile il proseguimento del nostro sogno, perché dopo vent'anni la saletta comunque richiedeva un restyling completo. Qual è il tuo legame con questo luogo? Questo è il luogo in cui sono cresciuta, è il luogo in cui venivo da piccola in parrocchia, ma è il luogo in cui mi ha permesso di diventare donna, mamma e di incontrare ogni giorno i ragazzi. Quindi per me è la vita, non saprei dire altro. La parrocchia a cui fare il verimento è la parrocchia dello Spirito Santo e con me c'è anche Don Fabio Campione che è appunto parroco dello Spirito Santo. Qual è il legame che questa sala, qual è il legame della sala della comunità, di questo cinema con il territorio e con la comunità? Ma io da soltanto due anni sono parroco, ho avuto in eredità da Don Giuseppe Cutorone questo bellissimo monumento alla cultura e sto cercando di portare avanti perché vedo che la comunità ci chiede di portare avanti. Anche molte persone ci fermano da mesi chiedendoci quando riaprite. Ecco, veramente il cinema è un locale molto piccolo, se vogliamo lo vedrete, però se il locale si chiama anche Il Piccolo credo che grande sia la speranza che riponiamo in esso. Noi non crediamo soltanto che l'evangelizzazione avvenga in modo diretto, può avvenire anche in modo indiretto. Noi siamo questo servizio di evangelizzazione indiretta, di supporto, e cerchiamo di seminare cultura, seminare valori. A volte si parla della necessità dello stare insieme, ma che contenuti diamo? Noi offriamo una proposta alle persone che vengono, un modo diverso, bello, di vedere la vita. Quindi io credo che se il cinema è piccolo, grande deve rimanere la speranza in tutti noi. Del lavoro dei volontari vi parliamo tra poco. A voi. Grazie. Gira ai tuoi ospiti i complimenti per la vernice usata, il colore, che io adoro. Un azzurro straordinario. Allora, Don Bianchi, la vita della Sala della Comunità, le Sali della Comunità nella vita della diocese, nella pastorale, qual è il rapporto? La Sala della Comunità è un progetto della comunità parrocchiale, della comunità diocesana, nel senso che per noi è fondamentale che questo rapporto sia strettissimo. Ce l'ha ricordato anche il Papa quando ha parlato proprio del sentire ecclesiale. Ogni strumento, insomma, ogni progetto nella comunità ha bisogno di questo. E la Sala nasce nella comunità, sarebbe, e vive se ha una comunità alle spalle. Penso che dal punto di vista pastorale sia estremamente importante. Cioè, la Sala non è un luogo per i battitori liberi. Certo, ci sono gli appassionati che hanno, non so, a cuore di più il cinema, hanno un po' del teatro, però questo raccordo è fondamentale. Sarebbe bellissimo, ad esempio, importante che almeno una volta all'anno un Consiglio pastorale parlasse di quello che è il progetto di una Sala della Comunità, che ci sia qualche rappresentante della Sala dentro il Consiglio pastorale. Perché? Perché dentro lì stanno le cose. Credo che questo, anche a livello diocesano, sia estremamente importante. Non tutte le diocesi italiane hanno le Sala della Comunità. I numeri li abbiamo sentiti prima, ma c'è anche una concentrazione territoriale, soprattutto al nord e al centro. ci sono degli spazi. Ecco, forse non è più il tempo di una Sala per Campanile, come si diceva negli anni 60. Però molto si può fare. Però si può fare molto, anche da questo punto di vista. Ed è una bella sfida per il futuro. E adesso noi, con il nostro Simone, vogliamo capire che cosa vi lega alle cosiddette Sale Parrocchiare, le Sale della Comunità. Quanti ricordi avete voi, telespettatori e telespettatrici? Hai detto bene, Gabriella. Oggi partiamo proprio da questa domanda. Come si chiama la Sala della Comunità del vostro paese o del vostro quartiere? Raccontateci i vostri ricordi legati a quello che una volta era il cinema parrocchiale e perché no, diteci anche quali film avete visto in queste sale. Allora, vi lascio subito i nostri contatti. Partiamo dalla mail, siamo noi, chiocciolatv2000.it, il nostro numero WhatsApp, 348 30 70 345, scriveteci oppure lasciateci un breve vocare, altrimenti chiamateci e lasciate un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure lo sapete, ci sono i nostri social, vi aspettiamo. Molto bene Simone, signora Marafini, 32 anni, quanti film ha visto? Non saprei quantificarli, ne facciamo due a settimana. Due a settimana, il calco è complicatissimo. Allora le chiedo, qual è il film al quale lei è più legata? È difficile anche qui. Poi ne parla con Gabriella, se vuole. Il primo che abbiamo fatto, è stato nell'87, abbiamo aperto proprio con Arizona Junior, che è dei fratelli di Cohen, ed è anche un film particolare. Noi facciamo sempre film un po' comunque di qualità, ma non di nicchia, insomma, perché dobbiamo... Avete una bella programmazione, poi ne parleremo, ma se mi hanno loro sono attenti alle famiglie, più giovani, hanno proiettato quanti in Tarantino in 35 mm in originale, quindi siamo proprio a un livello altissimo. C'è anche dove, non ti vedo preparatissimo. No, l'ho scoperto dove. Comunque, poi ci ritorniamo, perché Giraldo ci deve aiutare a capire ancora qualcosa di più del valore di queste sale, perché lei ha detto alla redazione, una cosa molto interessante, ha detto, una sala della comunità non è un cinema, però non è neanche una sala parrucchiale. Dunque, cos'è? Che cos'è? Non è un cinema perché non è un multiplex. Nell'immaginario collettivo, adesso quando si parla di cinema si parla di multiplex. Non siamo in multiplex. Non siamo il salone parrucchiale, che spesso viene frainteso come l'ambiente dove si fa tutto, dai pranzi, alle cene, al catechismo. È una sala che deve essere, dal punto di vista tecnologico, attrezzata, con le tecnologie per poter appunto vedere i film. E qui c'è stato un grosso sforzo che si è passati dalla pellicola alla tecnologia digitale. C'è stata tutta la rivoluzione digitale che è arrivata anche alle nostre sale e è fondamentale poi anche la gestione, perché per tenere in piedi una sala della comunità bisogna saperla gestire e questo è l'elemento sul quale l'associazione è fortemente impegnata in questi anni perché i modelli di gestione di una sala monoschermo sono anti-economici dicono per gli altri. Per noi sono economici nel senso che la sala chiude in pareggio i suoi bilanci e lì bisogna però lavorarci con i giovani, bisogna ringiovanire come succede in moltissime sale dove abbiamo dei gruppi di giovani che gestiscono direttamente la sala. Là dove abbiamo dei giovani le sale non hanno nessun problema sul versante della gestione. Io vorrei però dire una cosa che è importante per aggiungere al servizio il cinema è qualcosa di meraviglioso purtroppo diciamo poi i costi delle proiezioni spesso sono molto alti per chi ha una famiglia che ha due, tre, quattro figli anche per chi ha un figlio solo voi offrite anche film di altissima qualità con un prezzo molto più basso e questo sicuramente è un servizio importante perché consente alle famiglie di fruirne e veramente non è per nulla scontato. Sì, questo della leva economica è un elemento fondamentale per le sale della comunità perché appunto portare una famiglia in un multiplex tra pop corn e film si arriva a cifre da 60-70 euro nelle nostre sale con 5 euro riesci a vedere un film e questo fa la differenza questo fa la differenza 70 anni Gabriella grandi festeggiamenti noi eravamo lì con il nostro Rosario Sardella la vediamo un po'? Questa convention che ricorda e festeggia 70 anni di attività 800 sale della comunità in Italia semplicemente le sale dell'Ace che fanno questo fanno buon cinema ma non solo buon cinema fanno teatro fanno incontri fanno musica fanno cultura socialità è così che si trasforma in energia positiva per il territorio per le comunità le sale della comunità vivono soprattutto grazie ai volontari e una grandissima parte di questi volontari come si è visto anche durante l'udienza con Papa Francesco sono giovani e loro hanno portato non solo le competenze tecniche ma anche tantissime idee nuove per rivitalizzare le nostre appunto sale la mia esperienza con il cinema inizia con il cineforum della sala della comunità a cui partecipavo come spettatrice per il piacere di gustare le storie presentate questi tre giorni in cui ci troviamo da gente da tutte le parti d'Italia è interessante perché ci si incontra cioè le persone si incontrano e dall'incontro con persone nuove che non conosci può nascere l'occasione di conoscere qualcosa di nuovo la sala cinodografica in parrocchia non è la sala del parroco è la sala della comunità ed essere sala della comunità significa far partecipare la comunità alla gestione stessa anche della parrocchia e alla programmazione anche dell'attività che in essa si svolge sono volontario presso la sala parrocchiale quindi una sala che fa parte delle sale delle comunità e svolgo la funzione di cineoperatore ecco il mio ruolo nasce un po' come il nuovo cinema paradiso non so se avete presente il film con il ragazzo che impara da Alfredo il lavoro di cineoperatore per cui sono cresciuto così nella mia esperienza un signore Enzo mi ha preso da ragazzo e mi ha portato su nella sala di proiezione mi ha mostrato le pellicole abbiamo fatto partire un film insieme quindi è un parallelismo perfetto con il film e quindi le sale della comunità davvero uniscono ragazzi giovani con persone più esperte più anziane e quindi ti senti parte di una storia di una storia del cinema e del proprio paese che è iniziato ormai decenni or sono e continua tutt'oggi più forte che mai giraldo il giornalista scrittore Edmondo Berzelli scomparto purtroppo nel 2010 ha detto una cosa molto bella ha detto le sale della comunità servono a creare una coscienza di giudizio che serve per la vita allora io le chiedo qualcuno potrebbe dire tutti i cinema ci aiutano ad avere una coscienza di giudizio qual è il valore aggiunto delle sale della comunità rispetto proprio ai film ce l'ha detto Papa Francesco nella nostra udienza ha detto vedete e cercate il film i bambini ci guardano sta nella visione di un film dove i temi sono durissimi che Papa Francesco ama moltissimo ama moltissimo e ha una visione del cinema non moralistica perché il film vi invito non vi racconto nulla andatolo a vedere e lì si capisce che all'interno della vita che va accettata così come è funziona lo sguardo misericordioso che la vita ti dà e attraverso lo sguardo e la visione chiaramente lì trovi anche una presenza oltre rispetto alla banalità e al male stesso che nella vita è insito vorrei sapere su questo anche l'opinione di Don Bianchi ma mi sembra interessante sì perché la questione proprio il Papa ci ha rimanchiamato sul tema dello sguardo e sta qui cioè noi facciamo un lavoro come dire di educazione allo sguardo e il fatto di farlo anche insieme ecco questo è il di più è il fatto di prima si citava ad esempio l'esperienza dei cineforum nelle sale della comunità ancora tantissimi sono i cineforum perché vedere un prodotto culturale come il cinema ma vale anche per il teatro avendo un prima e avendo un dopo avendo qualcuno con cui condividerlo aiuta a educare lo sguardo ed è proprio un'altra cosa abbiamo sentito dal piccolo di Bari l'arrivo dei registi che spesso accompagnano le proiezioni continueremo a scoprire molte altre cose sulle sale della comunità su quei cinema con cui siamo cresciuti nelle nostre parrocchie e molto di più a tra poco non mancherà una sorpresa quante emozioni Gabriella stanno riaffiorando anche nei nostri telespettatori Simone tanti ricordi tante emozioni partiamo da Maria Rosaria che bello il cinema parrocchiale nella mia Napoli anzi scusa Massimiliano nella nostra Napoli esatto esatto e la nostra Napoli c'è una piccola parrocchia che faceva dei film bellissimi aperti a tutti io lì sono cresciuta e ho imparato il valore dell'amicizia chiedi quale però esatto quale scrivici e poi Mauro sono cresciuto in parrocchia e lì ho imparato tante cose compreso il senso profondo della condivisione ecco credo che le sale della comunità siano proprio questo un modo diverso per vivere il cinema Laura quando penso alle sale della comunità mi viene in mente un film che ha fatto la storia del cinema Marcellino pane e vino ovviamente e chissà se ci scappano la crinuccia Gabriellina mia ci scappano la crinuccia quasi ci scappa perché io l'ho visto perché io l'ho visto con i miei nonni quel film in una sala parrocchiale della comunità quindi sì come ho visto una marea di film con i miei nonni nella sala della comunità quindi non ha pianto però non ci siamo riusciti nemmeno questa volta con tutti gli strumenti che abbiamo oggi la tecnologia appunto i multiplex di cui parlava giustamente Giraldo perché come mai la gente continua ad andare nelle sale della comunità che cosa c'è che cambia qual è il gusto diverso penso che proprio sta nella modalità con cui si sfruisce di questo cioè nell'esperienza che si fa insieme ecco è il nostro veramente elemento in più oggi il cinema si può fruire ripeto in tante forme anche tutte le piattaforme che ormai conosciamo però è sempre una visione di tipo individuale è la visione comunitaria e collettiva che dà la differenza e poi il fatto che ripeto la sala della comunità non ha solo il linguaggio cinematografico ma anche ad esempio il linguaggio teatrale che è ancora un'esperienza che si vive davvero per forza si deve vivere dal vivo questo e le nostre sale ne hanno ne hanno anche tanto ecco non è proprio tutto perché c'è molto protagonismo c'è il protagonismo della comunità dei volontari delle compagnie teatrali di tutto questo mondo io tra l'altro adesso pensavo guardando anche al pubblico al massimiliano che mi ha ricordato ai nonni che mi portavano al cinema c'è anche questo aspetto intergenerazionale molto forte perché a volte tra i volontari ci sono famiglie intere il figlio la biglietteria un'altra persona della famiglia dentro e poi nel pubblico si uniscono generazioni diverse c'è un dato poi interessante su questo perché non è detto che siano le stesse persone che abitualmente frequentano la parrocchia anzi l'80% degli spettatori questo vorrei sottolinearlo non sono frequentatori della vita di parrocchia questo significa che c'è uno scambio di valori di sguardi molto ampio questo va a significare il fatto che la sala essendo aperta sul territorio facendo attività culturale approccia anche persone che non sono della semplice e questo è bellissimo questo è fondamentale perché dentro la sala si crea già quel dialogo una volta si parlava di credenti non credenti lontani vicini tutte categorie perché non si capisce lontano da chi vicino da che cosa però chiaramente questo fa capire anche come la sala diventi un vero presidio un punto di contro per tutta la comunità anche per chi non crede accade così anche nella sua sala della comunità sua sì 32 anni indegnamente non fosse altro che per uso capione quasi sì non so se se è una una realtà condivisa da altre sale il nostro quartiere è un quartiere periferico quindi siamo a casa al palocco sì la popolazione è cresciuta nel tempo quindi adesso sono parecchie persone della terza età che frequentano la sala e allora sono persone che magari vanno al cinema da soli ma non andrebbero da soli in un'altra sala lì magari trovano comunque altre persone con cui parlare è un punto di aggregazione ecco questo vuol dire che è anche una sorta di antidoto contro la solitudine no? sì penso di sì ecco perché ci piace Massimiliano anche l'idea che queste sale della comunità siano come ci diceva Giraldo prima in luoghi che hanno magari 10.000 abitanti insomma dove si combatte così anche lo spopolamento le persone sono interessate a restare dove c'è anche vita culturale ma adesso torniamo dalla mostra Marta Manzo torniamo al piccolo perché lì fervono i preparativi si deve inaugurare la sala e bisogna parlare dei volontari guarda che bella sala ecco sì ecco sì ci siamo spostati nella vera sala del piccolo e con me adesso ci ha raggiunti anche Francesco Battista che è l'operatore di cabina che si occupa della programmazione a lui chiedo che cosa significa questo luogo per te visto che sono tanti anni che lo frequenti allora per me è casa nel vero senso della parola è un luogo non soltanto fisico ma un luogo di relazioni devo ringraziare Don Pepino Cutrone che grazie a una sua provocazione mi ha iniziato a questa cosa ho iniziato vent'anni fa come semplice maschera dopodiché quattordici anni fa mi ha chiesto anche di occuparmi della proiezione e poi in seguito anche della programmazione del cinema insieme ovviamente a un programmatore abbiamo virato su una programmazione prettamente de sé su qualcosa che potesse garantire a questo cinema la valorizzazione di alcuni contenuti che magari altri non prenderebbero neanche in considerazione e questo è una carta vincente ci ha consentito di riuscire a inserirci anche nel mercato perché siamo anche questo in un mercato di nicchia che però ha un suo pubblico e la cosa sorprendente la cosa più bella prima sentivo che l'80% delle persone che frequentano queste sale non sono necessariamente frequentanti le nostre parrocchie ed è proprio vero però sono quelle che più rimangono stupite sono quelle che più cercano un volto cercano una persona di fronte a loro non soltanto cinema perché qui c'è anche un laboratorio e sì perché il progetto di riqualificazione della sala non ha previsto soltanto il ramodernamento delle poltrone per rendere la sala appunto competitiva al moderno ai tempi con i passi per quanto riguarda tutto l'apparato tecnologico ma è soprattutto un rinnovo dei servizi e il servizio che si aggiunge è il laboratorio gastronomico quindi un laboratorio in cui poter accogliere gli spettatori dopo la visione e poter offrire loro dei prodotti regionali dei prodotti enogastronomici abbinando la visione alla cultura enogastronomica quindi al passo con i tempi a voi la linea grazie grazie e auguri per l'inaugurazione pensavo a Santimoteo 32 anni fa le sedie erano di legno l'acustica terribile c'era un eco incredibile abbiamo dovuto mettere i pannelli fonoassorbenti poi era in piano non c'era la pendenza insomma voi volontari avete un po' aggiustato le cose anche col pennello confesso Massimiliano che delle sedie dismesse in una sala della comunità in Sardegna in Sicilia ce l'ho in casa di cinema e ci tengo moltissimo dove si siede? sempre all'inizio allora tanto è cambiato nel cinema siete passate un'acustica perfetta continuate a rendere ricca e bella e vivibile questa sala vorrei chiedere un po' a tutti voi siamo in conclusione 70 anni festeggiati insieme con Papa Francesco che augurio vogliamo fare alle sale della comunità per il futuro giraldo faccio il giro in senso orario almeno altri 70 anni noi ci ritroviamo qui tra 70 anni altri 70 anni altri 70 anni Lisa ma che sia sempre di più l'apertura alla novità tra 70 sono 102 ne voglio dire solo questo ma l'augurio di vivere io spero di non starci e di viverli ancora anche nello spirito dell'associazione cioè le sale non sono delle monadi ma camminano e l'esperienza anche dell'essere associazione ci aiuta a camminare insieme e a affrontare tutte le sfide che ci sono se le sale in Italia ci sono è perché c'è stata anche un'associazione che in questi 70 anni le ha accompagnate e le ha fatto vincere tante sfide senta il prossimo film al Timoteo lo voleva sapere Gabriella io lo so io lo so è il Joker no l'abbiamo appena fatto fai sempre la saputella e non sai mai nulla non è detto che non mi presenti adesso che vi ho scoperto intanto domani devi stare qui siete un po' lontani domani devi stare qui allora tutti quanti abbiamo scoperto con questo viaggio quanto sono preziose le nostre sale della comunità e quindi lunga vita alle sale della comunità diciamo domani perché torniamo alle 15 e 20 una nuova puntata di Siamo Novi domani Grazie